Della prossima imminente crisi economico-finanziaria se ne parla ormai da anni, ma tutte le nefaste previsioni finora sono state puntualmente smentite. Tuttavia, è vero, sono state smentite, ma non senza aver pagato un caro prezzo. Qual è questo prezzo? Beh, l'aumento spaventoso dei debiti pubblici che si è verificato praticamente in ogni angolo del mondo. In pratica il mondo non è mai stato così indebitato, non solo in valore assoluto, ma anche in relazione al prodotto interno lordo. Però c'è di peggio, perché più dei debiti pubblici sono aumentati i debiti privati, ossia i debiti delle aziende e dei cittadini. Occorre poi evidenziare che le banche centrali hanno fatto veramente di tutto e di più con politiche monetarie straordinariamente espansive, come mai era accaduto nel passato. Per cui ciò che oggi terrorizza i mercati è proprio questo, cioè se dovesse scoppiare una crisi come si potrebbe contrastare, con quali armi? Beh, per cercare di prevedere il futuro al solito diamo uno sguardo al passato. E la cosa più sensata è vedere come si è mosso il mercato azionario dopo la crisi del 2007-2008, ed in particolare in questi ultimi anni. E allora focalizziamo la nostra attenzione sulla locomotiva, cioè su Wall Street. Come sappiamo tutti la crisi è finita nel marzo del 2009. Da quel momento la borsa è risalita quasi ininterrottamente fino alla fine del 2014. Il 2015 è un anno, chiamiamolo, di consolidamento, di assestamento. Insomma, d'altronde gli indici di borsa statunitensi avevano largamente superato, abbondantemente superato i massimi che erano stati raggiunti prima dell'inizio della crisi. Quindi era salita la borsa in maniera vertiginosa per ben cinque anni. Era assolutamente normale e fisiologico un anno sabbatico, insomma, un anno di pausa. Il 2016 negli USA è un anno elettorale, di elezioni, no? Quindi col passare dei mesi si comincia a fare strada a una sorpresa clamorosa, cioè si comincia a pensare che si possa verificare un cambiamento epocale. Alla Casa Bianca potrebbe andare un non politico di professione. Allora durante tutto il 2016 la borsa americana così si muove poco. Ma a novembre quando le elezioni in effetti confermano quella sorpresa clamorosa, anziché crollare la borsa americana torna a salire vorticosamente. Contrariamente quindi alle previsioni, la politica economica di Trump fa bene all'America e di listini a stelle e strisce tornano a galoppare. Ed eccoci, finalmente, siamo arrivati a questi ultimi due anni dove in effetti cominciano a verificarsi ogni tanto degli scossoni in borsa. Scossoni che certo fanno temere il peggio, ma che invece, come dicevamo già all'inizio, vengono sempre brillantemente superati. Il primo arriva fra gennaio e febbraio del 2018, ma non produce gravi danni. È invece il quarto trimestre del 2018 che può prendere una paura veramente agli investitori. In quel periodo, tanto per darvi un'idea, l'indice Dow Jones scende di 5.000 punti, da 27.000 a 22.000, significa all'incirca il 20%. Però proprio quando si sta per intonare il De Profundis ecco che miracolosamente tornano gli acquisti. Sarà stato un caso. Ma Wall Street tocca il suo minimo proprio alla vigilia di Natale nel 2018. A Natale cambia tutto. Pare proprio un miracolo per chi ci crede, naturalmente. Tanto per darvi un dato, ovviamente a Natale, il giorno di Natale, si sa che le borse sono chiuse, ma nel giorno di Santo Stepano, il Dow Jones guadagna 5 punti percentuali. Insomma, non so se avete presente cosa significhi guadagnare 5 punti percentuali in un solo giorno per un indice formato da titoli così capitalizzati, insomma. È un boom incredibile. E siamo arrivati a quest'anno, 2019, che ha visto tre momenti in cui la borsa, diciamo che ha tentennato, o comunque che ha dato segnali non troppo rassicuranti. Il primo nel mese di maggio, poi nel mese di agosto ed infine nei primissimi giorni di questo mese, del mese in corso. È vero che sono stati ribassi sempre più contenuti, quindi riassorbiti senza particolari difficoltà. Però a quali conclusioni possiamo arrivare? Beh, questi periodi di sbantamento registrati nell'anno in corso, sì, è vero, sono stati facilmente riassorbiti, ma si sono succeduti con una maggior frequenza rispetto al passato. Segnale inequivocabile di nervosismo dei mercati. E poi, e poi sappiamo che l'anno prossimo, il 2020, sarà ancora un anno elettorale per gli Stati Uniti. Fa certo una gran patica a vedere un vero e proprio antagonista di Trump. Ma al di là delle questioni politiche a dare, diciamo, una certa preoccupazione è la tensione che la Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, insomma, una tensione che fa fatica a mascherare. Nel 2018, davamo per scontato che il 2019 sarebbe stato un anno nel quale i tassi sarebbero aumentati in virtù dei buoni dati che arrivavano dall'economia reale. Ed invece non solo i tassi non sono aumentati, ma sono addirittura diminuiti, insomma, sono state prese delle misure che normalmente si prendono quando l'economia non va troppo bene. Allora la domanda è ci nascondono qualcosa? È davvero solo, come si dice, colpa dei dazzi? Beh, visto quello che sta accadendo in tutto il mondo, da Hong Kong al Cile, dal Libano all'Iraq, insomma. E non dobbiamo nemmeno sminuire le, chiamiamole, vibrate proteste degli agricoltori in Olanda e in Germania. Stati che avrebbero la possibilità teorica di aumentare la spesa pubblica, visto che sono tra le poche nazioni che negli ultimi anni hanno visto migliorare le loro finanze pubbliche. Certo, il debito pubblico tedesco, ad esempio, è addirittura calato, naturalmente in raffronto al PIL. Ma quello privato? E le banche tedesche come sono messe? Insomma, per concludere occorre davvero restare assolutamente vigili. Sembra proprio che si vada incontro a un periodo non particolarmente florido, almeno dal punto di vista economico. E soprattutto se cominciassero le precipitazioni e non abbiamo neanche l'ombrello.